Il 2011 si chiude con un altro grande risultato per il Consiglio regionale piemontese. I consiglieri regionali hanno abolito il vitalizio, l'assegno che viene elargito a vita a chi ha lavorato in Consiglio regionale al termine della legislatura. Il provvedimento vale dalle prossime elezioni, dunque dal 2015, ed è stato approvato dalla prima commissione convocata in sede legislativa. La proposta di legge presentata dal Presidente dell'Assemblea legislativa, Valerio Cattaneo, su sollecitazione del Governo nazionale, è stata approvata all'unanimità dai consiglieri presenti, anche se in commissione non sono mancate le discussioni. Il luogo del vitalizio potrebbe essere introdotta, con un provvedimento a parte, una forma di pensione a sistema contributivo. Oggi è una giornata importante, siamo tra le prime regioni ad abolire i vitalizi in un momento di difficoltà del Paese, ha affermato il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Valerio Cattaneo, commentando il provvedimento. La commissione ha anche deliberato che le indennità dei consiglieri vengano sganciate da quelle dei parlamentari e fissate a 8.631,71 euro lordi. L'adeguamento Istat sarà congelato fino al 2013. Davide Bono, del Movimento 5 Stelle, critica il fatto che la soluzione non venga applicata già nella legislatura corrente e anche l'adeguamento, a partire dal 2013, delle indennità di carica all'indice di variazione Istat. Nel clima attuale del Paese, commenta, è vergognoso che consiglieri che guadagnano da 8.000 a 12.000 euro netti al mese abbiano bisogno di aumentarsi lo stipendio per l'aumento del costo del pane.